Vi siamo mancati? Bene, noi ritorniamo e ritorniamo in tv e lo facciamo con Catanista su Videoregione ogni lunedì a partire dalle ore 21 e 15. Sarà una grande stagione quella dei rossazzurri con tantissimi ospiti studio e tanti opinionisti. Insomma, Catanista sta arrivando! Un filo conduttore con la tifoseria rossazzurra, anima della nostra trasmissione. Curiosità, rubriche e approfondimenti su tutto il mondo rossazzurro. Siamo pronti a vivere tutte le emozioni di una stagione importante. Un'analisi costante e minuziosa sul campionato dei rossazzurri. E infine, non dimenticate l'appuntamento ogni venerdì dalle 22 alle 22.40 con Catanista Spritz. Tutte le ultime news sulla formazione rossazzurra e ovviamente sul prossimo avversario. Con Catanista, l'informazione, la fede e la passione. Sono solo su Videoregione. Vi aspettiamo! Stiamo arrivando!